Ultimamente aveva sempre vinto, chiedeva molto bene. Il gioco ogni tanto si può essere anche un po' più stanchi, la partita non era facile, soltanto era vincere, l'abbiamo fatta. Io credo che ci siamo ancora tanti di quelle partite, saranno sempre meno, ma insomma ce ne sono ancora tante, per cui non credo ci siano questi complessi per il momento nei giocatori. E' parcondice dal punto di vista degli errori arbitrali? Volontariamente mi sembra sia stata una forma di parcondice. Non so se si fanno volutamente queste cose, ma insomma si è un po' diventata prudente, ma insomma quello era anche una forma di buonsenso. Grazie. E la prestazione in Champions League se l'aspetta? La speriamo bene.